Amiche e amici, ho il piacere di avere stasera qui accanto a me Camelia Lambru, Wedding Planner. Ciao Camelia e benvenuta su HTO. Ciao Michaela, mi fa piacere e benvenuta al nostro evento. Grazie di averci invitato. Camelia, Wedding Planner, che cosa significa? Wedding Planner è una figura professionale nuova, diciamo, che nasce in Italia da poco tempo, però incomincia a essere molto richiesta. È una figura professionale che, diciamo, accompagna le spose in questo viaggio che sono i preparativi, aiuta, consiglia e gestisce l'ansia degli sposi soprattutto. In particolare di che cosa si occupa? Gestisce naturalmente un po' il matrimonio di questi sposi, ma partendo da che cosa? Partendo inizialmente da un contatto con gli sposi, sapendo la data, scegliendo la location che è più adatta agli sposi, scegliendo l'abito eventualmente per la sposa e accompagnandoli in tutte le loro scelte a seconda delle esigenze, giustamente. Si affidano molto a te oppure trovi anche quelli molto pignoli con i quali magari ogni tanto si entra un po' in contraddittorio? Guarda, è difficile già delegare, no? Soprattutto delle persone delegare proprio il giorno, i preparativi per il giorno del matrimonio è molto difficile, però man mano che prendono confidenza, che incominciano a capire che sei una figura che viene a supportare le loro scelte, si affidano e ti possono chiedere anche delle cose che inizialmente non avevano pensato, sì. Maggiormente che cosa ti viene richiesto? Più matrimoni estivi, quindi fuori all'aperto oppure, non lo so, le solite location? È vero, l'outdoor comunque d'estate, in spiaggia è una cosa molto richiesta. Mi fa piacere perché si va anche dal classico, si passa un po' anche al matrimonio informale, al matrimonio rock, quindi sì, abbiamo avuto quest'anno due matrimoni rock, quindi non il classico matrimonio, insomma in una location d'epoca. Sì, diciamo che comunque è una cosa più varia, comincia ad essere più vario. Sposti solo italiani o anche esteri? No, anche esteri, in effetti sono molto contenta perché con il wedding destination, no? In questo ultimo periodo da Toscana, che era il top, diciamo, del matrimonio per gli stranieri, vengono più spesso a Roma, vengono gli americani, gli inglesi, ho avuto una copia di norvegesi e anche i giapponesi. Accidenti però, da quanto tempo ti occupi di questa attività? Ormai sono sei anni, ovviamente iniziando con l'organizzazione di eventi, man mano la parte creativa, la parte più di relazione, no? Mi ha affascinato e sono passata al wedding. A proposito di questo, naturalmente oggi siamo qui in un nail bar, perché siamo qui? Guarda, mi è piaciuta molto questa idea di fare un evento, di organizzare un evento in una location che non sia la classica per il matrimonio, no? Ma è un posto frizzante, stile new yorkese, proprio in effetti il titolo Bride and the City mi ha fatto pensare a questo tipo di negozio. È un posto dove comunque, giustamente un attimo per noi donne, perché siamo soprattutto donne, prima di essere spose, un appuntamento con la bellezza, in compagnia delle amiche, no? Sorseggiando un prosecco, è molto carino. Anche per le spose straniere, in effetti il nail bar è un punto che conoscono, perché è un format anche internazionale. E organizziamo anche dell'addio annubilato, una cosiddetta molto carina, molto divertente. Tre consigli, Camelia, che vorresti dare alle spose, prima appunto del loro matrimonio, per non commettere degli errori? Innanzitutto, viverlo proprio con serenità, questo momento di preparativi, di non viverlo con ansia. Poi coinvolgere il futuro marito, questo assolutamente sì. E poi pensare anche agli invitati. Il matrimonio sì è vostro, però un'attenzione, gli ospiti vanno coccolati, perché affinché sia un bel evento deve essere anche un bel ricordo. E quindi gli ospiti sono i testimoni di quel momento lì con cui vogliamo condividerlo, però bisogna essere attenti. Camelia, allora per tutte le nostre amiche, soprattutto di HTO, che si stanno per apprestare al matrimonio, siamo ormai quasi nei mesi clou dedicati al matrimonio, come possono fare per contattarti, per avere maggiori informazioni su di te? Allora, visitando il mio sito, myperfectwedding, www.myperfectwedding.it, oppure la mia pagina Facebook, la stessa myperfectwedding, la mia email, camelia.myperfectwedding.it. Quindi vi aspetto. Grazie. Grazie a te. Grazie a te.